A Barletta devono decidere i barlettani. Una forte accusa alle trattative per la scelta dei candidati sindaco è giunta dal candidato socialista Mino Cannito alla presentazione del proprio slogan elettorale Poche Chiacchiere. Stracolme il cinema Paulillo dove il primario barlettano ha presentato i punti fondamentali del proprio programma. Il lavoro, le mutate condizioni di sensibilità ambientale, la trasparenza e l'attenzione alle condizioni di fragilità. Il salvatore della patria riferendosi a Cascella non conosce i problemi della città, è stato tanto tempo a Roma in virtù della sua funzione al Quirinale e quindi non può sapere le problematiche di Barletta. Questa è l'accusa lanciata da Cannito al candidato sindaco proposto al Partito Democratico che non ha voluto giocare la partita delle primarie del centro-sinistra a Barletta. Sono contento della partecipazione così numerosa. È ovvio che io ho messo in campo la mia dignità, il mio orgoglio e quindi sfido tutti, ma non per motivi di arroganza o di presunzione o di autoreferenzialità. Perché ci credo in questa mia azione politica. Fino a sabato la chiusura delle liste e poi l'abbio della campagna elettorale ufficiale che stando alle premesse si annuncia davvero combattuta.